Centro storico di Napoli, pizzeria centenaria, da quasi 200 anni, qui in Piazza Carità. La prima pizza che ho fatto io, diciamo che siamo intorno ai 7 anni, che salivo sulla cassetta dell'acqua, quindi una cosa proprio tipica napoletana, e stendevo questa pizza giocando. Poi ho imparato piano piano a fare il mestiere, che è un mestiere, diciamo, dell'Ottocento. La pizza è un patrocino napoletano, dopo di Napoli c'è il nulla, quando si parla di Napoli si parla di pizza. C'è qualcuno che mi fa qualche domanda e mi chiede, dice Paolo, ma qual è la differenza tra pizza napoletana e pizza italiana? Pizza italiana si può fare in tutto il mondo, ma pizza napoletana suona a Napoli? Non è così. Focaccia, focaccina, pizza da banco, pizza da bar. Invece pizza napoletana deve essere due centimetri alto, soffice, morbida e croccante, deve essere bella, leggera, deve avere una buona maturazione, il cornicione al violato di due centimetri all'interno, quindi è un po' un processo un po' particolare. Uno, due e tre. Quindi se voi ora vedete, noi non stiamo stendendo il cornicione. Tecnica napoletana, si chiama pizza allo schiaffo. La pizza napoletana viene fatta con pomodoro, mozzarella, basilico, olio. Ora ci mettiamo tra i 90 e i 120 grammi di fior di latte, un po' di basilico e rigorosamente olio extravergine d'oliva. L'associazione Rece Pizza Napoletana nasce nel 1984, fondata da 17 pizzioli più importanti di Napoli. Hanno fondato questa associazione perché tutti volevano rubare la pizza napoletana. Abbiamo 660 associati in tutto il mondo, siamo presenti in tre continenti. Tutti quanti prendono la pizza con la palla e noi la tiriamo con le mani. La pizza napoletana cuoce tra 60 e 90 secondi. Eccoci qua, per vedere se è un buon impasto basta alzarla ed è molto leggera. La pizza napoletana si mangia con le mani. Perché tagliarla a quattro significa assaporare tutti i prodotti. La pizza napoletana non ha inventori, non ha padrori, ma è frutto della genualità del popolo napoletano.